Ridisegnare la sanità provinciale con un unico polo ospedaliero metterebbe al riparo i neosocomi di Sore e Dalatri dal rischio chiusura ai dettagli del decreto Balduzzi che prevede parametri stringenti per i posti letto. Lo ribadisce il commissario dell'ASL Ciociara, il generale Vincenzo Suppa, alla vigilia dell'incontro che i sindaci avranno per discutere le proposte inerenti il nuovo atto aziendale da presentare in Regione. Al momento sul tavolo rimangono tre ipotesi, quella dei due poli ospedalieri, già bocciata però dai sindaci, quella di quattro ospedali autonomi e proprio quella del polo unico. Tra le tre ipotesi, quella che mette a ripare Alatri e Sora dai rischi di chiusura previsti dalle disposizioni del decreto Balduzzi è il polo unico, che non vuol dire però declassamento di Sora e Alatri perché diventerebbero insieme a Frosinone e Cassino che già lo sono anche loro dea di primo livello e avremo, come ho detto prima, una sanità integrata che vuol dire alcuni reparti presenti in tutti gli ospedali, altri invece laddove sono presenti forti specializzazioni. Questo avrebbe consentito, consentirebbe di spostare i posti letti che per incapienza della struttura non vengono utilizzati a Frosinone che ha una struttura inidonea a coprire tutti i posti letti previsti dal decreto 80, spostandoli principalmente ad Alatri, che passerebbe dagli attuali 100 a circa 180, altri a Sora e altri ancora a Casino. Con il polo unico ospedaliero e con idea di primo livello a Frosinone, Cassino, Sora e Alatri, secondo Suppa si attenuerebbero anche i consueti viaggi nei nosocomi romani o pontini dalla Ciociaria. Puntando sull'alta specializzazione, creando dei reparti di eccellenza nell'ambito della struttura provinciale di Frosinone, questa mobilità passiva, così che viene definita in gergo tecnico, verrebbe sicuramente fortemente attenuata. Ascoltate dunque le indicazioni dei sindaci, si metterà a mano alla bozza che ridisegna la sanità provinciale da inviare poi alla Regione Lazio. La nuova bozza di atto aziendale sarà approntata a partire da venerdì, dopo che i sindaci ci avranno dato indicazioni. Se partiranno per i due poli sarà il vecchio atto aziendale, bozza di atto aziendale con piccoli aggiustamenti. Se daranno altre indicazioni lavoreremo su queste indicazioni.